Sì, a me la seconda accetta, quando si fa sento che si viene sedita e quando si gira poi basta. E quando ho detto a me, adesso come andiamo, andiamo a me, andiamo a me, andiamo a me, andiamo a me. Andiamo a me, andiamo a me, andiamo a me, andiamo a me. Andiamo a me, andiamo a me, andiamo a me. Andiamo a me, andiamo a me, andiamo a me. Andiamo a me, andiamo a me. Andiamo a me. Grazie a tutti.